Buon inizio, ottimo inizio per il Milano Fashion Week, con una sfilata molto glamorous, molto chic, tutto in tono, in tono dalla testa ai piedi, tutto rosso, tutto in verde, molte differenti gradazioni di colori, i tessuti e gli accessori è di uno chic sopra le righe, cioè metri e metri di chiffon o di crepe di sera, crepe di chiffon, fantastici metri e metri di tessuto, matching con gli accessori e collane, anche abbelliti di collane. Cosa ne pensa di questi dettagli, le maniche, i volani? Abbellivano tutta questa silhouette che era molto rigorosa e grafica, ma quei dettagli, 50 strati di volane e di maniche, andavano proprio a creare una silhouette estremamente ricca. Lo chignon in particolare, questo costrutto, lei lo farebbe? Ah, voglio, assolutamente, sì, perché fa molto per una serata, molto chic e bellissimo. Molto fashion show. Molto fashion show. Grazie.